Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Tu parli troppo Beh, perché parli così tanto? C'è la bavetta dentro Che schifo Oddio, son male La capoccia del gabberone David Rubino, un youtuber italiano che ha 33 anni, spero che questa informazione ti sia utile Ho indovinato Continua a dirlo mentre sì, io mi scopo Berta No, non lo posso fare, sì Ma vorrei, te lo dico No, mi dicono tutti che sembro un gay Ma no, ma non ci sarebbe niente di male ad esserlo Ma io non lo sono Cazzo Che deve Che deve Voglio dire pubblicamente la mia stima che ho nei confronti di Andrea Di Pre Che abbiamo citato poco avanti Insomma Io penso che sia un Riccardo Tu devi scopare, bello mio No No, lo sapevo Tu Guarda Tu Riccardo, ascolta Ascolta Tu Guarda, ti ammiro perché Hai detto che sei vergine Ma tu lo sai che se lasci Lasci L'importante è quello Io ci tengo sempre che sia tutto a posto In generale nella vita Quindi Sì, sì, tutto a posto Bene, bene, no L'importante è quello E tu, Jenniferona, come stai? Ci siamo visti tra la tutta pochissima All'old eri All'old All'old Ti ho detto Cavolo Ti stai aspettando un'ora Ti stai aspettando? Non ho capito Da un'ora Eh, lo so Sì, guarda, scusaci Gianni Don Medin è veramente un coglione Lo conosci bene anche tu No Mi sbaglio Mi sono una merda, vergognati Cioè, non solo i pacchi Per l'aperitivo In cui mi fai entrare in live Mi mi dici così No, a parte che io ti sto dicendo cose Il momento E la mia sessualità Complimenti Ma perché mi vedo tipo Quella telecamera Capito com'è? Luicciata tipo Sì Sì, sono tre anni che faccio sto lavoro Lo so Eh sì, è un problema Dell'internet Un video vecchissimo Ehm Un video che ho guardato quando ero piccolo Ho fatto il mio No, no Guardandolo Lo condivido su Facebook Ah, eri uno che proxsava la mia roba Poi di Matte Vise Vabbè, la nostra roba Grazie Matte Poi cosa è successo? Ma forse ti seguivo su Instagram Ma in realtà non lo so Non sono sicuro Boh, vabbè Ciao Come lo ciucci bene quel gelato Ahahahah Bevo, vuoi sentire anche il mio di cono? Ahahahah Che coiore Il mio cono è gusto yogurt Ok, ok Quindi questa Questa cosa è delle frasi che hai già Ma Ma questo sei tu? Eh, purtroppo sì Sono io Mi scoperto Questa è veramente una situazione dove dici Ciao, purtroppo sì Sono io Mi scoperto L'ho scoperto Vabbè, però tu la farsi Vabbè, però tu la farsi Bene, bene, bene Bene, bene Bene, bene Bravo, bravo Io ho fatto un corso di doppiaggio Ma non è rilevante Chi sia Che è la sfortunata Quella puttana di tua madre La sfortunata Che mentre la baciavo Minchia, si sbrodolava tutta quella mignotta Grazie, Nico Picca Beh, ragazzi, però scusatemi Cioè, nel senso Senti voi che mi stigate Eh Io rispondo Fai bene Mi sembra che ho visto Va bene Shadia Pecorinoez Ma Senti un attimo Nooo No, no È veramente Guarda Shadia Non ha rispetto No, perché non ha rispetto degli ospiti Veramente Ma che cosa sta male? È caduta come un ammino Scusami Ma neanche Una quadrata di Cento mira Tu? Io? Ti manca un po'? Non so Tenti Giuseppe Finiamo un attimo questa lista Che così poi concludiamo Perché ero curioso No, puro puro Di maschi Non me ne ricordo Io ho Io ti sono simpatico Io so che È un tipo molto È un tipo che fa molte Molte views È sicuramente Don Ambrogio Non ci ho parlato Però È un tipo È un tipo molto forte Don Ambrogio Ok Io sono simpatico? Sono simpatico? Io ho Anzi due domande da farti Se permette Dimmi Grazie 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 Aspetta Guarda il mio talento Riesco a suonare E twercare insieme Ci stava? Spaccato? Bellissimo da vedere Grazie Grazie Che deve fare la premessa Ma no Non ci sarebbe niente di male Mi ha fatto morire Sono gay Ma no E si è reso conto di essere su Twitch Ma no Non ci sarebbe niente di male Basta Basta Stava fatto ridere Stava fatto ridere Stava fatto ridere E Questa cosa mentre aspettiamo Aspettiamo Mi scrivete tutti qual è Mi scrivete tutti nella chat di qua di Twitch Mi scrivete tutti un messaggio che scrivereste a una ragazza Che avete visto a scuola Che lei non vi conosce L'avete vista a scuola Dite minchia che figa Un messaggio per approcciare Senza rispondere a storie niente Quale sarebbe il messaggio che mandereste? Adesso metto in schermo i migliori Se posso farlo In che senso? Io non avevo più il ciclo tanto nonna Dio perdona mi sei ridotto Ti prego Non ci sono motivi particolari in realtà Le cose finiscono Lo sai bene anche tu Anzi No Lei fa Tiremo alle 80 anni Però io no Io non ho mai fatto Tiremo Non ha mai fatto Tiremo alle Non ha mai fatto Tiremo alle